Ciao Rudy. Ciao. Daniele ha detto se possiamo preparargli il suo ordine. Ma ci mancherebbe altro. Prepariamo l'ordine di Daniele da Senigallia, località che da qualche anno è tappa fissa per le vacanze estive col nostro piccolino. Farina tipo 0 Yans Pampati per pizza in teglia, 8 confezioni di farina ideale per pizza e una confezione di malto diastasico cristallizzato. Riponiamo tutto in una bella scatola americana a doppia onda. Copriamo e imballiamo con carta da imballaggio. Riepilogo dell'ordine, card di ringraziamento e l'immancabile caramella rossana. Sigiliamo per bene la nostra scatola a prova di Corriere Frettoloso. Logo di Giochi di Gusto sull'imballaggio e siamo pronti per spedire. Ciao ragazzi, alla prossima!